4,7 milioni di euro di rimborsi già liquidati dal fondo di solidarietà gestito dal fondo interbancario. Si tratta del primo bilancio tracciato dal vice direttore del fondo a meno di un mese dall'avvio degli indennizi all'80% per gli obbligazionisti a cui sono stati azzerati bond subordinati con il salvataggio delle vecchie banche Truria, Banca Marche, Carichietti e Cari Ferrara. Il valore dei rimborsi complessivi è molto più alto perché nelle quattro banche si parla di circa 300 e 8 milioni di euro di rimborsi. 5 può essere considerato poca cosa ma siccome la macchina è andata a regime non da moltissimo tempo perché fino al 14 settembre quando non abbiamo avuto un incontro chiarificatore con il fondo su alcune procedure da adottare diciamo che la macchina era partita ma in maniera molto 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 marginale. Ora è partita a pieno e si hanno già i primi risultati e questo è positivo. Si tratta per la stragrande maggioranza di richieste sotto i 50 mila euro e la metà di queste sono sotto i 10 mila. Si tratta prevalentemente di piccoli azionisti, pensionati, risparmiatori che avevano messo da parte i risparmi di una vita. L'entità dei rimborsi e l'entità delle istanze che sono state fatte, soprattutto il valore di queste istanze lo sta a dimostrare. Ad oggi al fondo sono pervenute circa 2000 istanze, 680 inviate da Feder Consumatori di Arezzo. Sono in via, abbiamo fatto nel corso di questi 30 giorni perché noi abbiamo iniziato a tambur battente dal 15 settembre e stiamo esattamente in linea con le previsioni. Siamo ormai a metà ottobre, dobbiamo fare la seconda metà d'ottobre, tutto novembre, qualche giorno di dicembre. Con i primi dicembre termineremo tutte, arriveremo a spedire all'incirca 3 mila istanze al fondo di garanzia. Ancora attesa invece sul fronte arbitrato, mancano ancora ad oggi infatti decreti che dovranno regolare la stessa procedura. Purtroppo devo dire che su questa cosa stiamo facendo, stiamo assistendo a una operazione che ovviamente metterà i risparmiatori in maniera definitiva di fronte a una non scelta. Chi poteva scegliere tra istanza di rimborso o arbitrato non ha potuto scegliere, ha dovuto fare necessariamente l'arbitrato e andrà arbitrato solamente quelle persone che non avendo requisiti non può ricorrere in altra maniera. E questo ovviamente è una riattura.